www.feyyaz.tv 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 Le parole ho però messi a noi, è mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la peata, semprevergine Maria, gli antichi e i santi, i tuoi fratelli, di pregare per me, il Signore e il Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita. Dio Onnipotente 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 Grazie a tutti. 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 Tu, Grazie a tutti. Grazie a tutti.